benvenuti ragazzi in questo nuovo video di sangue rosso nero allora ragazzi giorno dopo la partita lille milan un pareggio che giustamente per quello che si è visto in campo ci sta con un pizzico di attenzione si potevano ottenere comunque dei punti in più dei tre punti che avrebbero comunque chiuso quasi definitivamente discorso qualificazione ma poco male perché comunque potremmo rifarci col celtic dove presumibilmente basterà vincere per avere la qualificazione matematica primi o secondi conta poco perché tanto alla fine alcune prime dell'europa league sono squadre comunque toste scenderanno alcune dalla champions dunque il milan obiettivamente possibilità di vincere l'europa league ne ha ben poche l'importante è arrivare il più lontano possibile allora per quanto riguarda la partita diamo subito dei voti donna roma sei e mezzo incolpevole su quello che è stato il gol del lille sulla nostra disattenzione dal voto 6 a me continuano un piacere molto perché non è molto veloce si avrà un buon piede ma ma è sempre un giocatore molto sopravvalutato dunque gli do un 6 comunque attento in fase difensiva non ha spinto molto questa è stata l'indicazione che ha avuto sicuramente per quanto riguarda chi è il voto 7 ma chi è stato ieri sono sbagliato saltato soltanto una volta da già sicili l'esterno turco però tutto sommato chi era non ha fatto mai passare nessuno attento in marcatura continuano a giocare su altissimi livelli gabbia voto sei e mezzo allora per chi ha giocato a calcio lo sa che il gol che abbiamo preso non è un errore di gabbia perché questa fissazione di giocare palla a terra se voi vedete il replay si vede donna roma che sca invece di lanciare lungo scarica per gabbia e gabbia aveva vicino subito un esterno se non sbaglio il cone dell'ilde che lo stava andando a pressare e ha preferito buttarla fuori la palla dunque gabbia ha fatto quello che doveva fare il problema è stato successivamente in mezzo dove dalò e benassero hanno dormito un po e troppo molle abbiamo preso quel gol comunque gabbia ottima partita mi dà più sicurezza di romagnoli io non devo giudicare il nome del giocatore devo giudicare quello che vede in campo e gabbia attualmente da più sicurezza di romagnoli un dato di fatto questo per quanto riguarda invece tue arnandez partita da sei e mezzo partito maluccio che sto sbagliato insomma qualcosa non benissimo per poi ripartire con le sue sgaloppate qualche cross interessante un dio che si sta riaffermando su alti livelli benasser voto 7 e mezzo partita autoritaria ha recuperato una marea di palloni ha impostato la palla con intelligenza verticalizzava sta diventando un mediano completissimo tecnicamente tatticamente dunque sicuramente benasser io spero che li vedremo con la benedetta clausola di 50 milioni di euro perché altrimenti ce lo portano via comunque confermatissimo benasser se ormai la sua crescita e continua partita per partita sembra migliorare giocasse qualche metro più avanti farebbe anche qualche gol presumibilmente in più tonali voto sì allora anche lui primi 20 30 minuti male qualche passaggio di troppo sbagliato qualche palla pericolosa persa dà l'impressione di giocare molto con la paura molto col timore molto con l'insicurezza però bisogna dargli tempo perché è giovane benasser ci ha messo quattro cinque mesi per uscire un pochino fuori dal guscio il talento comunque lo si vede in tonale perché il lancio che fa l'assist per Rebic che mette palo in mezzo per Castileio è un giocato è un assist molto importante non era facile dunque si mostra un ragazzo comunque che il talento ce l'ha bisogna aspettarlo a coccolarlo proteggerlo tutto qua sta un paio d'anni però un anno bisogna aspettarsi una crescita di personalità da questo punto di vista per quanti colarciano voto sul 6 6 perché recupera tanti palloni si è sacrificato tantissimo in fase difensiva corso molto in avanti però ultimamente diciamo che risulta essere molto meno pericoloso del solito con le concursioni da fuori aria un giocatore che forse ha la testa la questione rinnovo dunque bisogna pur che vedere insomma come finirà questa questione che c'ha la nuova io sono dell'idea che potremmo anche rinunciarci non rinnovare il contratto ma andrebbe preso un top in Corone per fare il salto per quanto riguarda Hawk Hawk 6 non ha fatto una partita sfavillante non ha fatto niente di che utile anche lui in fase di copertura ha sbagliato un passaggio chiave che poteva portarci in vantaggio per Rebic però tutto sommato non mi è dispiaciuta la prestazione del ragazzo parlo di un ragazzo di vent'anni dunque gli va dato tempo con i giovani bisogna dare tempo e aspettare non bisogna bocciarli dopo tre quattro partite anonime però gli do un 6 comunque perché non ha fatto male nemmeno niente di che ma classica partita diciamo da compitino Casileio a 6 e mezzo rispetto al solito lasciando perdere il call comunque è riuscito a saltare tre quattro volte l'uomo qualche palla insidiosa qualche cross l'ha messo in mezzo ha aiutato in fase difensiva si è visto un minimo di Castileio di quello che abbiamo visto l'anno scorso è visto la sensi sale e mezzo dobbiamo sperare che Castileio renta sempre così e prendi fiducia dunque 6 e mezzo che ci sta per quanto riguarda Rebic voto 6 per l'assist è un pesce fuor d'acqua avanti si vede che non si trova benissimo nel suo ruolo principale però comunque in due partite e due assist qualcosa di buono la tira sempre fuori durante la partita per quanto riguarda i sostituti Krunic senza voto Diaz il voto più giusto da dargli penso che sia un 6 e mezzo perché entra salta l'uomo ogni tanto perde le palla perché si innamora però tutto sommato un Diaz che è un giocatore sul quale spero che riscatteremo perché ha un enorme potenziale si vede palla al piede e poi chi altro è entrato? Krunic l'abbiamo detto senza voto Diaz l'abbiamo detto Bonera Barrapioli 6 partita che forse si pensava e sperava che finisse 1-1 risultato che comunque ci proietta a una qualificazione prossima vedremo un po' ora domenica con la Fiorentina partita importantissima bisogna approfittare dei big match delle altre squadre ragazzi io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un like e un abbraccio da sangue da sonese ciao ciao